Musica Incidente questa sera poco prima delle 16.30 sulla 4.60 tra Bosco Nero e Lombardore, il conducente di un Fiat Ducato Cassonato della ditta dei Zutti di Frazione Spineto di Castellamonte che viaggiava in direzione Rivarolo a causa di un colpo di sonno, come da lui dichiarato, ha invaso la corsia opposta e dopo aver sfiorato una vettura ha preso in pieno sulla fiancata un Fiat Scudo che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida del mezzo un 35enne di Rivarolo Canavese che per evitare di scontrarsi frontalmente con il Ducato ha sterzato ed è finito nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, fortunatamente entrambi i conducenti sono rimasti illesi. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.